Dopo il grande stop che ha portato al fermo di circa il 95% dell'industria siderurgica nazionale, la scorsa settimana è stata caratterizzata dagli appelli alla ripartenza. Primo tra tutti quello del presidente di Federacciai, Alessandro Banzato. Il numero uno dei siderurgici italiani ha infatti ribadito che l'industria nazionale non può fermarsi oltre le metà del mese, tra l'altro data prevista anche dall'ultimo DPCM del primo di aprile. Perché? Perché il fatto che i competitor esteri di Germania, Francia, Repubblica cieca, Polonia non si siano fermati crea un problema di competitività per le nostre industrie perché i loro clienti potrebbero rivolgersi ad altri fornitori per le commesse. Questo però non vuol dire che si stia cercando di spingere per far superare il lavoro alla sicurezza. Infatti Banzato ha detto che verrà posto come primo oggetto di intesa per la ripartenza il protocollo siglato tra Confindustria e le parti sociali proprio per la sicurezza dei lavoratori. Tra le aziende che stanno spingendo di più per ripartire il primo possibile c'è l'acciai speciali di Terni, il cui sio Massimiliano Burelli ha incontrato il prefetto per cercare proprio di riavviare gli impianti prima del 13 di aprile. Anche l'Exilva con ArcelorMittal Italia e il suo sio Lucia Morselli sta chiedendo di poter commercializzare i prodotti anziché solo poterli produrre a stock. Tra i grandi temi che hanno caratterizzato la settimana scorsa c'è stato anche quello della liquidità che è stato anche protagonista del primo webinar di Siderweb. Sul tema sono intervenuti sia il presidente di Assofermet Riccardo Benso che il direttore generale di Federacciai Flavio Bregant perché il timore è che una mancanza di liquidità porti a innescare una spirale di mancati pagamenti e quindi un problema su tutta la filiera. Pare quindi che questa potrebbe essere l'ultima settimana di fermo per l'industria siderurgica anche se ancora una volta la voglia di ripartire dovrà confrontarsi con i dati sul diffugione del contagio da coronavírus. Grazie a tutti. Grazie a tutti.